Non ce l'ha fatta Andrea Muccio a sopravvivere. Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente di cui è rimasto vittima. A pochi giorni dagli ultimi due episodi avvenuti quasi contemporaneamente costati la vita a due centauri, il dato dei morti su strada si aggiorna tristemente. Il sinistro è avvenuto alle prime luci dell'alba alla periferia di Alessano nel Capodileuca. L'uomo in sella al suo scooter per motivi che verranno stabiliti dalle indagini affidate ai carabinieri della locale stazione, si è scontrato con un camion adibito alla raccolta dei rifiuti. Dai primi rilievi effettuati sembrerebbe essere stato un impatto molto violento quello tra i due mezzi coinvolti. Per il 47enne non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento dei sanitari del 118 intervenuti sul posto, condotto in ospedale l'autista del mezzo pesante che ha riportato qualche ferita. L'incidente è avvenuto alle 7 circa sul tratto della statale 275 che attraversa Alessano all'uscita del centro abitato in direzione Lucugnano. Il tratto stradale interessato è stato poi interdetto al traffico con deviazione delle auto che ha creato coda in entrambe le direzioni. Un altro sinistro si è verificato quasi alla stessa ora invece a Lecce lungo la tangenziale est ad essere coinvolta anche in questo caso una moto di grossa cilindrata rovinata a terra all'altezza dello svincolo per San Ligorio. L'uomo alla guida delle due ruote è stato condotto in ospedale con alcune fratture agli arti in codice rosso e ricoverato poi in proniosi riservata. Si tratta di un militare di 54 anni.